Come granello di senape, un uomo ha piantato, un giorno crescerà e ti verrà albero magnifico nel roccolo del mio Signore. Come granello di senape, il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà albero benefico nel forno del mio Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Cari fratelli, ascoltiamo il brano del Vangelo di Giovanni nella seconda domenica del Tempo Ordinario. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro Che cosa cercate? Gli risposero Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e in quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano dito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Oggi ancora un passo in avanti, secondo la descrizione fattaci dal Vangelo nelle domeniche precedenti. E siamo invitati a vedere, cari fratelli, propriamente come Giovanni ha dita Gesù, quale Agnello di Dio, e invita veramente a seguirlo. Fra il frastuono di voci, anche noi cerchiamo questa voce di Dio. L'Evangelista Giovanni racconta Gesù stava passando. È importante questo per noi. È una verità perenne. Accanto alla vita di ciascuno, cari fratelli, passa Dio. Accanto a me, alla mia vita e alla mia esistenza, alla tua, alla nostra, passa Dio. Puoi non sentirlo, non vederlo, puoi non crederlo, come spesso si sente dire in giro. Puoi non amarlo, ma resta la verità. Dio ti passa accanto, continuamente. Il libro dell'Apocalisse, San Giovanni, quindi ci ricorda, è così. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da Lui, cenerò con Lui e Lui con me. Cristo è Dio tra noi. Egli è qui e nessuna vita è vivibile fuori di Lui. Ma ci chiediamo, ma come facciamo a riconoscerlo? Giovanni Battista, appena vede Gesù, lo fissa, lo riconosce. Giovanni Battista, appena vede Gesù, grida, ecco l'agnello di Dio. Giovanni, cioè a mio avviso, collega la presenza di Dio alla scelta dell'amitezza, della bontà, del sacrificio, della croce. Proviamo ad accettarci così come siamo. Proviamo a vedere nel fratello che soffre, nel povero, nell'ammalato, questa presenza di Dio. Scopriremo lì il mistero della grandezza, della presenza del Signore. Proviamo però anche a rinnegare il proprio orgoglio, a sorridere alla croce leggendola nel piano di Dio, ad amarla, a dare senza attendere. Proviamo a scoprire quella gioia che è il tipico frutto dell'essere accanto a Dio. Ma perché oggi sembra che Dio sia lontano dalla nostra esistenza? Perché tanti sentono Dio lontano? Perché non lo cercano dove Dio è? Perché non combattono la propria cattiveria, non istinguono il proprio orgoglio, che rende ciechi ed estranei a Dio, pur avendolo accanto. Dopo l'atto di fede di Giovanni, il Battista, vi ricordate? Due giovani si staccano da lui e si avvicinano a Gesù e domandano, Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Gesù ci dice Chi è Dio non si può raccontare, si può capire soltanto vivendo la vita di Dio. Quando ci chiediamo che cos'è la pace di Dio, bisogna vivere la pace per scoprire la pace di Dio. Che cos'è la fede? Vivendo la fede si capisce il dono prezioso di questo amore con Dio. A noi la parola di Dio, il Vangelo di oggi, particolarmente questo, chiede non si cerca Dio dall'esterno. Non basta neppure una bella definizione di Dio. non fermarci sulle idee su Dio. Volete conoscermi? Dice il Signore Cominciate a vivere la mia vita e tutto diventerà chiaro. I santi, il mondo, chi sono stati? Chi sono i santi? I santi non sono parolai, ma persone che vivono la parola, che fanno questa esperienza con la parola, solo facendo esperienza di vita con Lui lo riconosceremo e anche lo comunicheremo agli altri. Ricordate, Andrea va dal fratello Simon Pietro, abbiamo trovato il Messia e lo condusse da Gesù. Solo così si fa evangelizzazione. La Chiesa deve imparare da questo. Solo stando con Gesù e facendo esperienza con Lui si ha la forza della testimonianza. Non si può dare agli altri se prima non stiamo con Gesù. Quindi limita la preghiera, la contemplazione, allo stare solo e a soli con Lui davanti al tabernacolo. diceva Plutarco, questo scrittore dell'antica Roma, l'opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma nell'accendere una fiamma. Questa è l'opera del maestro. È così, veramente. Nella misura in cui abbiamo detto il nostro sì a Gesù Lui ci invita ad essere testimoni. Testimoni con la nostra parola, testimoni con la nostra vita per presentare il fascino di questo incontro con Cristo. Anche noi, queri fratelli, abbiamo conosciuto Gesù attraverso dei testimoni. Io penso alla mia esperienza personale, i miei genitori che mi hanno dato il dono della fede con la loro testimonianza, quelle anziane vecchiette con le quali recitevamo il rosario nella nostra piccola chiesetta, con la loro vita semplice e profonda, e poi i catechisti, e poi l'incontro con il sacerdote che mi ha avviato anche alla vocazione sacerdotale. Gesù passa attraverso la testimonianza di questi nostri familiari, genitori, attraverso la parrocchia. Diceva l'abbè Pierre quando arriveremo alla meta non ci domanderanno se è stato credente ma sei stato credibile la tua maniera di vivere ha reso credibile a tutti gli uomini che Dio li ama è un interrogativo inquietante ma che penso susciterà dentro di noi un maggior impegno sia per fare l'esperienza personale con Gesù come i due discepoli di Giovanni che passano al seguito di Gesù sia per poter portare all'altro al fratello con cui condividiamo la nostra vita esistenziale la preziosità di questo essere discepoli di Cristo con la nostra testimonianza salutato Gesù d'amore e fuori di me parla la tua voce e vedo solo te manda con coraggio nel mondo le ancelle della mia misericordia nel mondo senza essere del mondo granello vivo e vero dell'amore e vedo